Riprendono con intensità i bombardamenti in ato sul quartiere Babala di Zia, dove si trovano la residenza ed il bunker del colonnello Gheddafi. Se nella giornata di ieri la situazione era stata più tranquilla rispetto a lunedì notte, i caccia britannici e francesi continuano ora a sorvolare la città, ma ieri è stata anche la giornata in cui le truppe fedeli a Raïs hanno sferrato un nuovo, duro attacco contro la città di Misurata, 200 km a est di Tripoli. Almeno sette ribelli sono rimasti uccisi nell'offensiva dell'esercito lealista, una quarantina di feriti, alcuni vessano in gravi condizioni. Mentre la determinazione della Nato viene confermata, anche i più storici alleati del leader libico saltano il fosso. È prevista per oggi la visita in Cirenaica del presidente senegalese Abdullah Yewade, che incontrerà a Benghazi i rappresentanti del CNT, il Consiglio Nazionale Transitorio. Grazie.